Ciao a tutti ragazzi, anche oggi mi resta registrare più di un video nello stesso momento, quindi appunto mi vedete vestita uguale sia in questo che in un altro video. E in questo video voglio parlarvi delle anteprime Avon, come diciamo una volta al mese, e queste anteprime saranno della campagna 2, che è questa qui, e della campagna 3, che arriva fino alla festa della mamma. Se non avete visto quelle dell'anteprima 1 e dell'anteprima 18, vi lascio i link qui. Cominciamo subito appunto con la campagna 2, come anche si vede dalla copertina del catalogo, di nuovo c'è questo siero per il viso, effetto lifting. La particolarità di questo prodotto è che qui alla fine c'è questa sfera, e se si ruota si apre il prodotto e esce da questa sfera, e con questa sfera appunto si può andare a passare sul viso, diciamo fa una specie di massaggio, mentre appunto esce la crema. Il prezzo lancio è di 19,90, mentre il prezzo intero è di 45, poi ci saranno delle nuove tonalità di ossetto, queste qui, eccole qui, poi questa è una cosa che appunto ancora non era per niente mai uscita all'Avon, ed è uno spray fissante per il makeup, appunto una volta come per esempio un fix plus, diciamo, una volta che si è fatto il makeup, e per farlo durare di più si spuzza appunto questo liquido, e il makeup dovrebbe durare appunto più a lungo, e questo qui sono 125 ml, costa 7,90. Poi esce un nuovo pennellino per applicare l'eyeliner, anche questo con mezzo bianco e mezzo nero, e questo qui costa 4,95, poi c'è un sopra smalto effetto platino, sono 12 ml e costa 4,95, questo qui, che io ho già acquistato e mi è già arrivato, che adesso vi faccio vedere se lo trovo, l'ho provato e mi è arrivato stamattina, l'ho provato su una tip così di sfuggita, sopra lo smalto nero, sinceramente non mi piace molto, è praticamente questo smalto qui, che appunto se vedete è praticamente trasparente, però ha questi micro riflessi azientati, che sull'unghia si vedono proprio come dei micro micro glitter, e l'effetto sarebbe molto carino, se si vedessero di più, faccio passi più, tre passate, ma l'effetto non si vede quasi per niente, giusto se proprio ci guardi e quindi lo guardi fisso, sopra sullo smalto nero dovrebbe risaltare, invece non si nota molto, quindi insomma può essere magari utile per qualcuno che non gli piacciono le cose molto accentuate, magari che non gli piacciono i glitter forti, però insomma a me non mi fa impazzire, poi degli smalto invece che mi piacciono davvero molto, però ne ho davvero di tantissimi tipi così, sono i colori della linea speed dry, queste 5 tonalità, che sono sempre da 2 ml, che costano 3,95, asciugano appunto in 30 secondi, e hanno una base di un colore, poi ci dovrebbero avere dei micro glitter all'interno, da come si vede ovviamente qui dal catalogo, io questi non li ho provati, sono queste tonalità, punto celesti, verdi, gialle, sono molto carine, anche con tonalità, però non so se li proverò, e stando appunto a speed dry sono appunto asciugatura rapida, sono davvero molto buone, poi di nuovo c'è questo trattamento all'assurante per i glutei della Solution, questo balsamo labbra della Von Care, al buro cacao e vitamina E, poi una saponetta 3 in 1 per viso, mani e corpo della Von Care, questa è molto carina, poi qui sotto invece della Planet Spa, un pennello per applicare appunto le maschere, un pennello professionale per appunto applicare le maschere senza applicarle con le mani, poi sempre collane e braccialetti, questi sono 3 bracciali che si possono unire insieme per formare, per esempio qui, un bracciale con una collana doppio, oppure qui un bracciale con una collana appunto doppio così, oppure una collana lunga, si possono appunto unire insieme e formare diversi kit, poi ancora qui anellini, kit, sempre questi componibili, altri attrezzi per lo sport, questi qui, o qui sotto invece per la macchina per i bambini da attaccare dietro al sedile, per smettere tanti giochi, attrezzi per l'uomo, e davanti a di nuovo questo è tutto mentre, in fondo del catalogo, come offerta troviamo appunto la saponetta, a 1,50€, una cosa che in l'uomo, 9 ombretti e 4 ombretti illuminanti, 3 lipgloss, 2 blush e 3 applicatori, ovviamente uno specchio, il packaging esterno è questo qui, mentre appunto la paletta è più che viene anche se non si vede molto bene perchè appunto è sulla pagina, passiamo invece all'anteprime della campagna 3, che è appunto questa qui, nelle anteprime c'è il, non ho capito bene queste anteprime se hanno sbagliato loro appunto a stamparle o se è così, insomma l'ho ben capito perchè su questo catalogo qui, appunto quelle delle anteprime della 3e, ci sono delle cose che invece vendono nella 2e, quindi appunto adesso vi faccio vedere quelli che appunto ho trovato che vendono nella 2e, appunto c'è un nuovo profumo che è appunto questo qui, in occasione della festa della mamma, poi ci sono appunto dei nuovi smalti, effetto gel, che appunto dovrebbe essere qui scritto, lucentezza, effetto gel, colore ricco, questi smalti sono 3 in 1 perchè sono base, colore intenso e sopra smalto in un unico prodotto, senza bisogno della lampada UV e manicure da salone di bellezza comodamente a casa, e questi sono 12 ml e costano 4 euro, non so bene se proverò magari un colore, ora vedo se c'è qualche colore che mi attira, che mi appunto mi attira e quindi lo prenderò, non so, vedete quali colori, sono diciamo colori abbastanza classici, così poi posso vedere anche se appunto sono buoni, e questi qui si trovano nella campagna 3, qui alla fine proprio, poi invece qui sotto, come vedete, ci sono finalmente anche Avon, escono questi gli strass per le unghie, e così appunto, c'è una rotellina di strass che viene 3,90, come vedete gli strass sono di vari colori, delle dimensioni ovviamente non le so ancora perchè non c'è scritto, e sono, per esempio, qui c'è la gocciolina, il cuoricino, il cerchietto, il fiorellino, il rettangolino, il fiorellino, anche qui, insomma diversi colori queste qui, sono ovviamente degli strass normali, e diciamo le pinzette per applicarli, applicatore delle decorazioni per unghie, 100% acciaio inossidabile, e costano 1,90€, che ovviamente sono semplicissime pinzette con la punta fina, e questi due prodotti si trovano nella campagna 2, vi faccio vedere, non so come mai è nelle anteprime della campagna 3, ma in verità si trovano appunto qui, non potete vedere, non so appunto se hanno sbagliato loro, o quale motivo, poi continuiamo appunto con le anteprime della campagna 3, e ci sono questi prodotti qui, nuovi, che sono una polotinta in polvere, questo c'era già, però è un nuovo colore mi sembra, ed è medium beige, che non c'era, e questo viene 8,95€, questo qui, e poi un correttore liquido, che al momento mi sa che questo non c'era, perché c'erano soltanto correttori stick, collettore liquid 7ml e 5,95€, questo qua, con due colori, fire e medium, e questo qui appunto, poi sono usciti altri nuovi colori dei rossetti delle new, poi ci sono dei mattitoni occhi, che sono due in uno, matita e ombretto, con tre nuovi colorazioni, questi qui, che è un verde scuro, un viola e un blu, sono 1,6 grammi, e il pezzo è 6,95€, poi un altro trattamento della solution per la cellulite, con un massaggiatore per il corpo, poi di qua una nuova profumazione della planet spa, con caviale nero, c'è appunto tutta la linea, maschera perfezione a strappo per il viso con estratto di caviale nero, gel rivitalizzanti per il contorno occhi e estratto di caviale nero, trattamento perfezioni per il viso con estratto di caviale nero, quattro fiale, ci sono le profumazioni della bonnaturas, c'è orchidea e mestillo, questi sono i prodotti qui, qui sotto invece c'è mousse per il giglio e il gardenia, questa c'è la jar, ci sono i prodotti di del gardenia, di qua invece c'è fragole e guava, e qui sotto rosa e cioccolato, i prezzi sono sempre 2,99€, i prezzi di questi sono tutti quanti 2,99€, e sono mousse, spuzzini per il corpo e gel doccia di ogni fragranza, costo tutti uguale appunto, mentre troviamo delle nuove profumazioni anche per quanto riguarda sempre la bonnaturas per i capelli, e c'è questa è una profumazione che è albicocca e buio di calitè, questa di sotto invece che è mango e zenzero e camomilla aloe, mentre di qua c'è mandorla e avocado, 2 qui, e qui sotto fiori di ciliegio, sono dei nuovi prodotti ai fiori di ciliegio, questi qui, e i prezzi anche qui sono tutti quanti 2,75€, di tutti quanti i prodotti sono shampoo, balsamo, spascio gli nodi, 2 in 1 shampoo, tutti quanti sono prodotti per i capelli a 2,75€, poi sempre gioielli, diversi tipi, braccialetti, orologi, sempre kit componibili, collane, e dall'anteprima questo qui è tutto, mentre in fondo al catalogo ci sono 3,99€ le mattite sconti per gli occhi, mentre di sconti interessanti diciamo che non si trova quasi nulla, e queste qui appunto sono tante le anteprime che ci saranno nella campagna 02 e 03, fatemi sapere questo sotto nei commenti se c'è qualcosa che vi incuriosisce o se magari qualche vostra amica ha già provato qualcosa, spero lo tanto per questo video vi siete utili, un grosso e un bacio della post, ciao!